Può un'immagine catturata con il cellulare esprimere le stesse emozioni di una fotografia sapientemente studiata? Lo abbiamo chiesto a Fabio Fuser, pluripremiato professionista che da 40 anni cura l'immagine di famosi musicisti e di grandi eventi socioculturali, in occasione di un seminario sulla psicologia applicata all'immagine fotografica che ha tenuto presso la tenuta della famiglia Nicolini a Capranica, in provincia di Viterbo. La psicologia dell'immagine è una branca, chiamiamola così, della psicologia appunto umana che però viene applicata da poche persone purtroppo al momento nell'ambito della fotografia, vale a dire si tende, si tenta di analizzare quelle che sono le risposte generate da colori, da luci, ombre in relazione a come noi percepiamo appunto colori e luci e ombre. Evoca emozioni e sensazioni diverse. E quanto è diversa col cellulare? Logicamente ci sono tante più limitazioni date dagli automatismi e quindi il risultato è sicuramente meno impattante e quindi abbastanza diverso da quello che potrebbe essere quello fatto della stessa immagine utilizzando invece una fotocamera con regolazioni manuali. Insomma le foto col cellulare non hanno anima? Le foto con il cellulare possono avere un'anima se sono fatte non in automatico. Un professionista che vive del suo lavoro deve avere un'immagine che lo rappresenta in modo adeguato e non una foto in automatico scattata col cellulare. Questo è un monito che va agli influencer e ai social media manager di oggi? Assolutamente. Bisogna però che queste persone comincino a valutare quella che è la sostanziale differenza fra un'immagine e una fotografia. Grazie a tutti.